Sono riuscita a farla questa, proprio perché si baciava, no? Gina! Ah, è davvero che mi hai buscatato il vino? Gina! Vieni! Spostati indietro, forse. Spostati indietro. Spostati indietro. Vieni, Gina, vieni, 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 vieni. Che non viene qua? Dopo avanti. La piccola qua viene. Così no? La pitaccia. Eh, eh, il vino è un vino, non ci piace. Eh sì, non hanno simpatia. No, no. E qua gli fa meno fastidio. Ah, vabbè, vieni, adesso, adesso, adesso. Eh, sta facendo video, eh? Ah, sta facendo video. Lo butto su YouTube. Per cui ho detto spostati, prendono solo i cani. Sì. 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 Andhè? Sì. 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 dai fai un po' più da quella zona guarda che brava, vieni, 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 oddio Gina, vieni, 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 vieni Ecco Sì, però da quando è rimasta la piccoletta più brutta